In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnale al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti